allora sono ronni raponi da polverici esso dico una mia realtà ma che probabilmente riguarda molti anzi sono sicuro che riguardi molti chi va in autostrada almeno dalle mie parti ci sono tre corsie tre corsie non è possibile che chi va a 100 occupi la corsia di mezzo quella centrale e non si sposta gli ampeggi suoni non si sposta perché a destra non si può sorpassare se viene qualcuno nella corsia di sinistra che solitamente vanno forti come pazzi se però è sorpassare rischi di incidente allora si sorpassa una volta che si sorpassa si mette alla freccia e si torna sulla corsia di destra appena possibile non questi prende quella di mezzo e si cammina in quella a oltranza perché è un rischio grandissimo per tutto e per tutti fatti bravi i corretti i educati di rispetto e i rispettosi verso gli altri è una questione di educazione ciao io sono ronni raponi da polverici